buongiorno ragazzi mi raccomando per chi volesse sostenere il canale lo può fare con un click gratis mi dispiace perché poi anche quando le cose vanno bene come ieri sera dove il risultato ci premia incominciano le prime retromarce di chi ti aveva fondamentalmente criticato retromarce su zielischi retromarce su taremi allora io io dico solamente una cosa ognuno di noi è giusto che abbia la propria opinione ma il campo è il giudice supremo ed è il campo quello che parla chiaro noi siamo messi malissimo e siamo solo ad inizio stagione sia in difesa che in attacco ma in attacco forse siamo messi male ancora di più che in difesa perché a livello numerico in difesa siamo messi meglio perché se bisse che riesce a capire un po come si marca l'uomo ci può fare comodo davanti abbiamo visto ieri sera che se non entra lautaro martinez e turam noi non tiriamo in porta contro una squadra che ci ha fatto girare le scatole che ha corso tantissimo ma che l'attaccante eh l'attaccante loro davanti che si chiama dove vuoi andare a parare giù se stai calmo se stai calmo te lo dico dove voglio andare a parare Gambula Gambula da solo vale quanto Taremi Arnautovic e Correa e ho detto Gambula stamattina mi scrivono addirittura che eh mi scrive un ragazzo che fa l'osservatore mi scrive Giuse Tutino della Sampdoria più forte di Taremi ma a parte questo a parte questo non è una provocazione lo stesso Fabio Bergomi si sta ritredendo sui giocatori che aveva dipinto come mercato da dieci lo dico in amicizia Fabio senza critica ora il campo ti sta facendo rendere conto che non era come dicevi te tante altre persone allora io ti dico e davanti non possiamo andare avanti così non possiamo andare avanti così davanti abbiamo due poliglasse e dietro il deserto il nulla allora ti dio quello che farei io e questo anche un complimento a Taremi l'unico giocatore davanti vendibile vendibile non lo vendi perché Taremi ad anno nuovo va per i 33 anni l'unico giocatore potresti scegliere di cui liberarti di 6 milioni lordi perché Taremi costa 6 milioni lordi all'anno è proprio l'iraniano che a gennaio potresti scegliere in prestito con ingaggio pagato nel mercato arabo perché se il signor Taremi come scrive Vince stamattina su Twitter porca di una troia perché ora mi arrabbio se il signor Taremi a parametro zero non lo voleva nessuno una domanda me la sarei fatta scrive Vince su Twitter invece i nostri purtroppo squattrinati e senza soldi sono andati dritti penso questo giocatore come degli arieti per loro parametro zero significa garanzia di successo diciamo che secondo me la verità la stanno in mezzo perché senza soldi è questo quello che puoi fare perché se l'iter avesse avuto i soldi non va certo a prendere il un giocatore come Taremi aveva la mezza richiesta in Arabia Saudita ed è lo stesso discorso per Zierischi Zierischi aveva la mezza richiesta in Arabia Saudita poi nulla ma perché perché sono giocatori che ormai cioè Taremi non è mai stato un campione Zierischi lo è stato ma Zierischi ha troppi problemi fisici e ieri sono piovuti tantissimi fischi anche su Zierischi soprattutto sul gol che sbaglia mentre allora a gennaio c'è di Taremi perché gli altri due non li vogliono vedere nemmeno i genitori che sono quasi impresentabili anche se io ti dico tra Taremi a Natovi c'è il ballerino io se devo credere in un giocatore tra questi tre credono nel ballerino perché correre ed impegnarsi va bene fino ad un certo punto correre ed impegnarsi quindi a gennaio c'è di Taremi gli dici guarda Pastorello con cui Marotta Armino gli dici guarda Marotta gli dici a Pastorello stavamo scherzando trovagli una squadra e gli paga l'ingaggio e noi cerchiamo di prendere una terza punta degna di essere una terza punta e di stare dietro a Lautaro Martinez e Turano perché non è possibile non tirare in porta per 80 minuti contro una squadra di Serie B Svizzera la prestazione di Barella che io in quel ruolo non ce lo vedo mai l'ho sempre detto Barella un fuori classe da mezzala perché se te lo metti in quel ruolo lo depotensi per te caratteristi e punti di forza di ai giocatori ma c'è da dire una cosa in partite tipo Juventus Arsenal non c'è solamente la fase di possesso c'è anche la fase di non possesso quindi se ti manca Cialanoglu contro l'Arsenal contro la Juve bisogna dire che Barella in fase di non possesso è ottimo perché quel lavoro lì non puoi farlo non lo può fare Mkhitaryan perché in fase di non possesso devi garantire un moto continuo che né Mkhitaryan e né Aslany riesce comunque a garantire perché Aslany ragazzi a me piace però c'è da dire che purtroppo sta dimostrando di non essere da Inter questo giocatore i recuperi difensivi che fa un play sono diversi dai recuperi difensivi che fa una mezzala perché la mezzala ai recuperi difensivi li fa statuariamente è un play fa 4-5 recuperi difensivi di quelli importanti soprattutto scappando all'indietro 4-5 volte serve forza resistenza gamba e Barella non ce l'ha quindi è per quello che ti dico secondo me anche se l'abbiamo vista tutti la prestazione in colore non sono di Barella ieri sono stati tanti quelli non hanno giocato bene Barella non è c'era loro però contro Arsenal contro Juventus e secondo me in quel ruolo lì deve giocare Barella oggi almeno io non si voglia dare un'altra opportunità ad Aslany questo è quello che penso io ciao Inter